Hai un sedere da un... Grazie, siamo in viva voce. Sorpresa! Bridget! Rebecca! Perché le sue gambe arrivano fin qui? Dimmi di te. Continui a trombarti tutto quello che si muove. Che diavolo fai? Sto vestendo. René Zellweger, Hugh Grant. La tua segreteria contiene zero messaggi. Che pasticcio, Bridget Jones. Martedì alle 21. Su 27.